Buonasera, buongiorno, ben ritrovati in diretta nel nostro telegiornale. Apriamo ovviamente con la cronaca, innanzitutto vi diamo conto di una notizia che ci ha appena giunta in redazione, nuovi rintracci di migranti nel territorio del comune di Udine, anche in alcuni comuni limitrofi, si parla di una novantina di persone rintracciate nel corso della notte tra le ore 3 e le ore 7, diversi gruppi per appunto una novantina complessivamente di migranti trovati nella zona della periferia nord del comune di Udine, in particolare si parla dell'area compresa tra via Cotonificio e via Lettricesimo. Stando quanto riferito dall'ufficio gabinetto della questura di Udine, tutti i migranti sono stati portati alla Cavarzerani dove sono in corso ovviamente i vari accertamenti sanitari e anche della provenienza ovviamente di tutta l'altra fila ovviamente di controlli necessari in queste situazioni. Venendo sempre alla questura di Udine è stato reso noto che la personale della Polizia di Stato di Udine ha denunciato alla locale procura della Repubblica 18 cittadini stranieri con l'accusa di avere a vario titolo presentato false istanze di lavoro stagionale. Il personale infatti della squadra mobile dell'ufficio immigrazione ha proceduto a una serie di verifiche finalizzate dunque a verificare la genuinità di 13 istanze di lavoro stagionale per la stagione attuale, quella del 2021, e istanze presentate da altrettanti stranieri dai 20 ai 37 anni di origine magrebina. Si parla di 9 cittadini del Marocco e di 3 dell'Egitto, almeno questi dati riportati. Le domande in questione facevano riferimento, si spiegano in una nota un'attività imprenditoriale operante nell'ambito della ristorazione a Lignano Sabbiadoro, dove queste persone nel corso appunto della stagione estiva del 2021 avrebbero dovuto prestare la loro attività con varie mansioni. L'accusa è che, in base dunque alle verifiche, le richieste non sono risultate genuine, ma bensì predisposte all'insaputa del titolare dell'impresa al solo file di poter permettere il rilascio di un visto all'ingresso in Italia o in area Schengen delle predette persone. Le richieste dunque sono state sospese e di seguito annullate, impedendo ogni possibile successiva dinamica a favore degli interessati. L'indagine continua alla questura di Udine, ha permesso di accertare anche che le domande erano state inviate telematicamente da Milano, presumibilmente da un call center, e questo tramite le mail utilizzate e sono stati proprio individuati 5 usuari delle stesse. Si tratta di tre cittadini egiziani e di due marocchini, regolarmente soggiornanti in Italia, che sono stati denunciati dalla procura di Udine per il tentato favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per la predisposizione della fittizia documentazione. Per il secondo titolo di reato dunque sono stati segnalati alla locale procura anche i richiedenti. Tre giovanissimi studenti sono stati denunciati e centinaia di video pedopornografici cancellati dal web come risultato dell'attività della Polizia Postale di Trieste coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Apposta Postale delle Comunicazioni, un'operazione che si è conclusa la scorsa settimana e di cui è stata data notizia nelle scorse ore. Un'operazione che trae origine da una segnalazione di un cittadino. All'esito dunque delle indagini coordinata dalla Procura di Trieste e Lecce, si è riscontrata la presenza di un gruppo Telegram in cui un utente aveva condiviso tre link contenenti un grosso quantitativo di video a carattere pedopornografico. Gli accertamenti degli investigatori hanno consentito di identificare i tre presunti responsabili, tutti giovanissimi, di cui uno minorenne. Gli operatori della Polizia Postale di Catania, Cosenza e Brindisi hanno dunque prestato ausilio nelle esecuzioni delle perquisizioni a carico dei giovani, concluse con il sequestro dei dispositivi informatici e altro materiale utile al proseguo dell'indagine tuttora al vaglio degli inquirenti. I tre giovani sono stati dunque denunciati come detto per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. I contenuti sono stati immediatamente rimossi e gli account dei ragazzi sospesi. Soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica fa presente la Polizia Postale, un periodo caratterizzato da un aumento esponenziale del cybercrime e dei reati nei confronti dei minori è fondamentale, molto importante che i cittadini segnalino eventuali contesti illeciti rinvenuti sul web, rivolgendosi agli uffici della Polizia Postale presenti su tutto il territorio nazionale oppure anche utilizzando il portale della Polizia Postale, dovremmo avere anche l'immagine in merito, dove appunto è possibile inviare le varie segnalazioni o chiedere varie informazioni. Vi diamo conto anche di un incidente stradale che si è verificato nella notte di ieri, verso le 22.30, sempre a Trieste. Un incidente in cui sono rimasti coinvolte un'auto e uno scooter. È avvenuto in via D'Alviano, all'incrocio con via Di Sella, proprio davanti alla sede dei vigili locali, vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme anche alla Polizia locale. A essere stato preso in carico dal personale sanitario è stato lo scooterista. Sempre a Trieste, ieri sera, la Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino del 1995, residente in città di nazionalità croata e già noto alle forze dell'ordine. Trovandosi già in zona per una lite, infatti, accaduta poco tempo prima, il personale della squadra volante è stato, stando alle accuse dunque più volte, oltraggiato dall'uomo e alle 22.30 in piazza Venezia, uomo che si trovava con altre due persone. Tutti e tre sono stati sanzionati amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica. Ed è stata sanzionata, sempre per violazione di detta normativa e per ubriacatezza, anche una triestina del 1961. È stata notata a terra intorno alle 22.15 in centro assistiana da una volante del commissariato di Duino Aurisina. La donna era cosciente ma alterata ed è stato dunque richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Vi diamo conto anche dell'operazione del comando Carabinieri tutela patrimonio culturale perché la pala d'altare raffigurante, la visitazione di Maria, un'opera del pittore goriziano Francesco Cauchig, considerato uno dei protagonisti del neoclassicismo europeo, sarà domani alle ore 11 restituita dal comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale Riccardi alla sindaco di Gorizia, Ziberna. Questo sarà un evento che avverrà alla fondazione Coronini. Il dipinto sarà restituito dopo oltre un secolo, essendo scomparso, si spiega in una nota, durante la Grande Guerra. Il conte Coronini lo aveva infatti inviato a Roma insieme agli altri beni per salvarlo dai bombardamenti. I militari del reparto specializzato dell'arma, che da aprile 2016 operano in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige a tutela proprio dunque del patrimonio culturale, hanno individuato e sequestrato la pala d'altare in una galleria d'arte di Roma. In seguito questa è una segnalazione arrivata alla storica dell'arte della fondazione Coronini, la dottoressa Bragaglia. Tutti i dettagli dell'operazione però saranno resi noti dunque domani nel corso della conferenza stampa programmata proprio per questa importante restituzione. Spostiamoci ora in un contesto più generale, più nazionale. Parliamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha firmato nelle scorse ore, ormai lo sappiamo, il decreto legge sulle aperture. Tutte le misure previstano effetto immediato, inclusa quella del corpo di fuoco. Pertanto si ricorda che il blocco notturno degli spostamenti questa sera scatterà alle 23 anziché alle ore 22. E a proposito del Presidente Mattarella, parlando con degli alunni di una scuola primaria di Roma, ha detto quando mi hanno eletto al Quilinare mi sono preoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito, ma due cose mi hanno aiutato, ha detto Mattarella. Ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in Italia in base alle Costituzioni non c'è un solo organo che decide, ma le decisioni sono distribuite tra tanti organi. Tra otto mesi, ha spiegato Mattarella, il mio mandato di Presidente termina. Io sono vecchio, dunque tra qualche mese potrò riposarmi e quindi parlando con questi alunni, il Presidente della Repubblica ha dunque chiuso indirettamente all'ipotesi e voci circolate su un suo possibile nuovo mandato. Ritornando al decreto sulle riaperture, come ripiloga anche l'ANSA, per quanto riguarda la certificazione verde Covid-19, stando al testo, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Il testo dispone inoltre che il Green Pass sia rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Tra le date previste del nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, ricordiamo anche che da sabato 22 maggio riapriranno nei fine settimana i centri commerciali, i mercati, le gallerie, i parchi commerciali e riapriranno anche gli impianti di risalita nelle località di montagna che erano chiusi dall'estate scorsa. Da lunedì 24 maggio riapriranno le palestre in anticipo rispetto al primo giugno ipotizzato precedentemente e poi il primo giugno toccherà a bar e ristoranti che non hanno spazi all'aperto si potrà prendere il caffè al bancone del bar o pranzare e cenare fuori anche nei locali al chiuso. Tra le varie misure ricordiamo che il 7 giugno questo a livello nazionale il coprifuoco verrà posticipato di un'altra ora si potrà dunque rientrare a casa entro la mezzanotte e il 21 giugno sarà la data in cui a livello nazionale il coprifuoco sparirà. Il 15 giugno tornano le feste di matrimonio ma per partecipare servirà dunque il Green Pass ossia il certificato di avvenuta vaccinazione, di guarigione o di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. E poi il primo luglio gli ultimi a ripartire in base alle scelte fatte saranno le piscine al chiuso, i centri telmali, le sale giochi, bingo e casino, i centri ricreativi e sociali, i corsi di formazione pubblici e privati. Ovviamente questi sono alcuni degli aspetti tra i molti di cui è stata data notizia nelle ultime ore. Per il frutto di Venezia Giulia però lo ricordiamo stando ai dati attuali si prevede il primo giugno il passaggio in zona bianca e se questo sarà confermato nei prossimi giorni questo anticiperà tutte le riaperture scadenzate oltre quella data e verrà meno anche il coprifuoco dunque già dal primo giugno. Resteranno però gli obblighi di mantenere il distanziamento sociale, evitare assembramenti, garantire l'igiene delle mani e indossare ovviamente ove necessario, ove previsto, la mascherina. Per fare il punto sulla ripartenza delle attività anche in chiave turistica a Grado e anche sui preparativi in vista dell'arrivo della Carovana Rosa questo fine settimana nel territorio regionale. Ricordiamo infatti che Grado sarà protagonista della tappa di domenica, la quindicesima, la Grado Gorizia giornata che vuole celebrare Gorizia e Nova Gorizia come capitale europea della cultura 2025. Dunque noi per fare il punto su tutti questi preparativi siamo collegati da Grado con la nostra Francesca Santoro e allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Francesca. Buongiorno Monica, siamo sulla diga di Grado, Grado che si sta preparando all'arrivo del Giro d'Italia previsto per domenica. Oggi era stato annunciato l'inizio degli addobbi in giro per la città, ovviamente il tempo non ha aiutato perché piove, c'è vento, quindi verranno effettuati tra domani e dopo domani non appena il maltempo concederà una tregua. I preparativi comunque procedono, sono tanti gli eventi collaterali perché è grandissima l'attesa per l'arrivo della Caruvana Rosa. Ne abbiamo parlato con il vicesindaco Matteo Polo ricordando anche che questo sarà il weekend della Pentecoste, quindi un weekend che normalmente per Grado rappresenta l'inizio effettivo della stagione. Vediamo l'intervista e poi linea lo studio. Grado si prepara all'arrivo del Giro d'Italia previsto per domenica, quali gli eventi collaterali? Sì, Grado si prepara al Giro d'Italia, stiamo aspettando la campionessa, l'atleta azzurra Maramosole che pedalerà assieme a me, assieme al sindaco e tanti cittadini, avventori, una biciclettata che si terrà sabato 22, proprio il giorno prima del Giro d'Italia, alla scoperta del nostro territorio, delle riserve naturali e alla scoperta anche della vicina Aquileia. C'è poi tutto un preparativo che riguarda l'allestimento della città, siamo un'isola turistica, ci teniamo a fare bella figura con le telecamere insomma delle emittenti e vogliamo insomma allestire al meglio la città, per questo distribuiremo dei palloncini e delle coccarde a tutte le attività commerciali e addobberemo il porto con gli stessi. Abbiamo poi installato una fontana all'ingresso di grado fatta insomma di nastro rosa, molto visibile e vistosa, che speriamo catturi l'attenzione del pubblico, dei ciclisti insomma della Corsa Rosa. Ci saranno degli accorgimenti sulla viabilità? Sì, il centro, l'anello del centro qui pedonale, del centro storico, sarà chiuso a partire dalle 16 di sabato per l'allestimento del villaggio di partenza. Ci sarà poi la chiusura strade quindi dell'area del porto e della direttrice in direzione di Aquileia a partire dalle 11 della domenica mattina. Transiterà la Corsa attorno a Luna e successivamente su ordine del questore ci sarà la riapertura della strada. Questo sarà anche il fine settimana della Pentecoste quindi normalmente è previsto l'arrivo di molti turisti soprattutto dell'Austria e della Germania. Sarà quindi una sorta di prova generale per la stagione? Sarà la prova generale per la stagione, sarà un modo per lanciare la nostra stagione estiva ma proprio in considerazione dell'arrivo di numerosi turisti ci siamo mossi in sinergia con le attività ricettive per consentire di arrivare anche agli alberghi che sono situati qui in centro prevedendo una viabilità alternativa che abbiamo comunicato in maniera anticipata. La quindicesima tappa del Giro d'Italia con un percorso di 147 km domenica coinvolgerà anche Aquileia. Allora sentiamo come stanno vivendo i preparativi anche questo passaggio dell'atteso passaggio della carovana rosa anche gli abitanti del comune di Aquileia e anche come stanno rivivendo questa ripartenza in generale anche qui del turismo attraverso le parole del sindaco Manuele Zorina. Un fine settimana particolarmente intenso e ricco di eventi per Aquileia. Sì, stiamo entrando nel vivo di quella che è una stagione finalmente con una riapertura e chiaramente una speranza per un'estate che possa essere in sicurezza e che possa essere sicuramente all'altezza dei tanti visitatori ma anche della stessa comunità. infatti oggi ospitiamo ad Aquileia un evento, un grande evento legato al festeggiamento appunto dell'enciclica Papale Laudato Si. Ospiteremo in Basilica un evento di carattere e di ricaduta mondiale che verrà poi trasmesso in tutto il mondo e per questo dobbiamo ringraziare sicuramente il di Castero del Vaticano ma anche il nostro corregionale Paolo Petiziol che è riuscito insieme all'orchestra FVG e insieme anche all'organizzazione delle ente Friuli nel mondo a portare questo evento ad Aquileia e noi siamo onorati e io sono onorato come sindaco di accoglierlo. Poi diciamo è una settimana veramente piena perché già il 21 quindi appunto venerdì inaugureremo una mostra importantissima che è stata fatta dal Comune di Aquileia in collaborazione con Confartigianato e che ospiterà e vedrà come casa temporanea una mostra evento che raccoglie 55 artigiani della nostra regione. Poi il Giro d'Italia quindi Aquileia vedrà passare il Giro d'Italia che parte da Grado domenica alle 1 e 20 Aquileia passerà e stiamo logicamente lavorando nonostante il tempo per cercare di accogliere nel migliore dei modi possibile questo importante evento nazionale. Sul fronte del turismo Aquileia è pronta? Diciamo che non ci siamo mai fermati, c'era tanta incertezza ma non abbiamo smesso di confrontarci con i tanti enti territoriali che insistono e hanno a cuore il destino di Aquileia anche turistico quindi grazie ai tavoli con Promo Turismo, con Fondazione Aquileia, con la Socoba, col Museo archeologico e anche con le realtà locali stiamo predisponendo un'estate che sarà sicuramente un ritorno alla vita, sempre in sicurezza ma un ritorno alla vita. Ricordiamo che la Carovana Rosa arriverà in Fondazione Giulia dunque questo sabato nell'ambito della 14esima tappa Cittadella Monte Zoncolan, domenica sarà quindi la 15esima tappa alla volta di Grado Gorizia e poi la 16esima tappa a Sacile Cortina d'Ampezzo. Per quanto riguarda la prima giornata con l'atteso arrivo sul Monte Zoncolan, sabato a Sutrio l'accesso da Piazzale dell'Hotel Moro sarà contingentato, mille biglietti che sono stati messi a disposizione dagli organizzatori per il pubblico, prenotabili dalle 8.30 di questa mattina attraverso sistema online di Promoturismo FWG, 850 posti per l'ingresso lato Sutrio per pedoni oppure fruitori della seggiovia Valvane e 150 per l'impianto di risalita da Ravascletto, mille biglietti ovviamente andati rapidamente esauriti come vediamo nel portale nello spazio apposito di Promoturismo FWG. Situazione coronavirus in Italia, facciamo il quadro generale con gli ultimi dati a disposizione, un aggiornamento ovviamente riguardante la serata di ieri dove sono almeno 4.452 positivi in più al test per il virus rilevati rispetto a lunedì e questo a fronte di oltre 262.800 tamponi effettuati per un tasso di positività pari all'1,7%, 201 i nuovi decessi che portano il totale a 124.497, 315.308 le persone attualmente positive delle quali 1.689 ricoverate in terapia intensiva e 11.539 nei reparti ordinari, numeri quest'ultimi entrambi in calo. Venendo al frio di Venezia Giulia, 42 risultano i contagi in più rilevati ieri rispetto a lunedì, 2 i nuovi decessi invece che portano il totale a 3.770. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, fermi a 15, mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. L'andamento della pandemia in frio di Venezia Giulia, con un calo consistente di tutti gli indicatori, ha affermato nelle scorse ore il vice governatore Riccardo Riccardi, consente di avviare il ritorno alla normalità anche del servizio sanitario regionale con la progressiva ripresa delle attività sospese e il recupero di quelle riprogrammate. Dovremmo avere a disposizione anche online l'aggiornamento sul fronte delle vaccinazioni a livello italiano e ovviamente con il focus anche sul fronte del territorio regionale, chiaramente. Allora andiamo a vedere insieme alle 10.29, il totale delle somministrazioni effettuate risulta di 28.382.984 somministrazioni, con il totale delle persone vaccinate, ossia che hanno completato il ciclo vaccinale, salito a 9.049.348, il 15,27% della popolazione. Rispetto al friuli Venezia Giulia, scorriamo ancora se possibile questa grafica, si parla di 585.741 dosi somministrate rispetto alle 645.955 consegnate per un rapporto percentuale pari al 90,7%. Per quanto riguarda invece l'apertura delle agende per i cittadini in friuli Venezia Giulia con un'età compresa tra i 40 e 49 anni, ieri nella seconda giornata di apertura delle agende delle richieste per dunque sottoporsi al vaccino anti-covid compiute da chi appartiene a questa fascia d'età risultavano superiori a 5.000, per la precisione 5.043. Ancora parlando della campagna vaccinale, ricordiamo che nel pomeriggio sarà inaugurato a Trieste il nuovo punto vaccinale, questo al Molo 4, ci sarà una conferenza stampa in cui saranno presentati ovviamente ulteriori aggiornamenti, ve ne daremo conto più tardi e poi ricordiamo anche l'importante appuntamento di domani, l'inaugurazione alle 11 alla Dacia Arena in ingresso Curva Nord della lab vaccinale per la campagna di immunizzazione dei lavoratori realizzato sulla base di un protocollo operativo redatto da Confindustria Udine in collaborazione con l'Udinese Calcio, con Croce Rossa Italiana e il friuli Venezia Giulia Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro, CGL, CIS e UIL ovviamente vi daremo conto anche di questa importante inaugurazione domani nel corso dei nostri telegiornali Spostiamoci ora ad Aquileia che nel pomeriggio ospiterà nella Basilica di Santa Maria Assunta l'evento Una Salute per Tutti, organizzato dalla Commissione Vaticana Covid-19 del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e questo in collaborazione con l'Associazione Mitele Europa Si parla di un evento che approfondisce la connessione tra salute globale, ecosviluppo e anche ecologia integrale in presenza di tanti ospiti importanti in videocollegamento, ospiti da tutto il mondo Allora sentiamo cosa ci ha spiegato questa mattina proprio il Presidente dell'Associazione Mitele Europa, Paolo Petiziolla Un evento davvero straordinario per Aquileia e per tutta la nostra regione perché ha richiamato proprio in Aquileia e in un posto straordinario appunto come la nostra Basilica delle autorità che mai più mi sarei aspettato Grandissimi nomi anche in collegamento Grandissimi nomi anche in collegamento perché abbiamo un premio Nobel per la pace la Imenita 2011 abbiamo Bernice King, la figlia più giovane di Martin Luther King che ci ha dedicato un momento speciale che sarà trasmesso questo pomeriggio davvero commovente Poi abbiamo Sharon Stone da sempre impegnata nelle battaglie ambientali ma abbiamo due cardinali Non è esagerato dire quindi che Aquileia sarà sotto riflettori mondiali? Non è esagerato dirlo perché sono già stato informato che quanto verrà registrato sarà poi trasmesso a tutte le televisioni del mondo In una nota di aver programmato per i prossimi giorni un fitto calendario di riasfaltatura annullate la scorsa settimana a causa delle abbondanti piogge cadute Nella speranza che le condizioni meteo non facciano slittare ulteriormente i cantieri il nuovo programma risulta al seguente Oggi dalle ore 19 fino alle 23 verrà riasfaltato il piazzale in uscita esterno del casello di San Donà Le fasi di lavoro verranno gestite garantendo sempre la friabilità di una pista telepass e una manuale A seguire oggi dalle 23 fino alle 5 di domani, giovedì 20 verrà chiusa la rampa in uscita di San Donà di Piave per chi percorre l'A4 Ovest in direzione Venezia per lavori di manutenzione alla pavimentazione Quindi chi proviene da Trieste non potrà uscire a San Donà ma dovrà utilizzare i caselli di San Stino o Cessalto Dalle ore 19 di giovedì invece alle ore 2 di venerdì verrà ripavimentato un tratto di circa 300 metri dell'autostrada 28 che renderà inaccessibile la rampa che dalla rotatoria della strada regionale 251 di Portogruaro va in direzione Conegliano Dalle 23 di venerdì alle 5 di lunedì 24 invece verrà effettuato un cantiere all'altezza del casello di San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste Verrà attivato uno scambio di careggiata spiegato via Venete con doppio senso di marcia nella careggiata opposta e contemporaneamente chi proviene da Venezia non potrà uscire a San Stino ma a San Donà di Piave o a Cessalto Proseguono anche gli interventi di stesa dell'asfalto drenante nel tratto autostradale della terza corsia A4 Gonars Nodo di Palmanova ultimo atto del primo sublotto del quarto lotto nel fine settimana dunque dalle ore 6 di sabato alle 21 di domenica 23 è prevista la chiusura del ramo Udine-Venezia che collega la A23 all'A4 i mezzi provenienti da Tervisio Udine diretti a Venezia dovranno uscire a Udine Sud e riprendere la A4 al casello di San Giorgio di Nogaro diamo anche conto del fatto che la giunta per le nomine ha dato il via libera alla prosecuzione del mandato per due manager pubblici l'organismo consigliare ha approvato la conferma di Alberto Toneatto alla presidenza di UCIT, la società che si occupa dei controlli sugli impianti termici e ha anche rinnovato la fiducia Raffaele Fantelli, presidente del CDA di Friuli Venezia Giulia Strade SPA Adesso passiamo alla pagina sportiva, siamo pronti a ricollegarci con la Dash Arena con il nostro Renzo Pausa per tutti gli ultimi aggiornamenti sul fronte udinese Ben ritrovato Buongiorno a te Monica, un saluto anche a tutti i nostri telespettatori l'Udinese si appresta a disputare l'ultima partita di questo campionato che la vedrà protagonista domenica alle 15 alla Meazza contro l'Inter ed è alla ricerca quindi delle motivazioni giuste per affrontare al meglio la squadra di Conte già sicura da un paio di partite di vedersi cucito lo scudetto sul petto motivazioni che possono essere riposte proprio nella caratura dell'avversario che si va a affrontare dovrebbe essere sufficiente già questo insomma per essere sicuri di mettere sul campo tutto quello che si ha ancora in corpo alla fine di un campionato molto impegnativo molto compresso con tanti turni infrasettimanali anche a causa del covid e dopodiché anche la volontà di chiudere con un sorriso questa stagione che a metà di marzo quando l'Udinese va già 33 punti in tasca lasciava presagire un finale migliore con una posizione di classifica più alta magari nella parte destra della graduatoria certo bisognerà affrontare questo difficile impegno ancora con una situazione infortuni piuttosto piuttosto severa piuttosto impegnativa anche da gestire ci sarà un solo giocatore che potrebbe essere in via di recupero per questo impegno si tratta del difensore olandese Bram Noiting aveva rimediato una contusione alla gamba nella rifinitura precedente alla partita contro il Napoli la sua prognosi di recupero lo porterebbe a rientrare a disposizione troppo tardi per questo impegno comunque la sua volontà è quella di cercare di anticipare i tempi di recupero di poter essere della partita e di poter come sempre fatto in questa stagione aiutare anche i compagni di reparto a tirar fuori la migliore prestazione possibile c'è ancora questo impegno da onorare dopodiché si comincerà a pensare alla prossima stagione a quella che sarà l'ossatura della nuova squadra ma anche a quella che sarà la prossima guida tecnica quindi ci sarà la partita con l'Inter dopodiché Mister Gotti avrà un incontro con i vertici del club e da lì si cercherà di capire se si potrà continuare con il tecnico di Contarina oppure se si andrà a cercare un nuovo elemento chiaramente è ancora presto per dirlo intanto domani alle ore 11 la Dacia Arena inaugurerà ufficialmente il proprio centro di vaccinazione anti-covid questa iniziativa fortemente voluta da Confindustria alla quale l'Udinese Calcio è affiliata da circa un anno un'iniziativa molto importante a cui hanno già aderito diverse persone diversi cittadini del territorio prosegue quindi la campagna di vaccinazione con l'Udinese Calcio che mette a disposizione quindi la propria struttura sempre più polifunzionale sempre più a servizio della comunità sfruttando gli ampi spazi sia interni che esterni quindi una grande soddisfazione per l'inaugurazione che avverrà domani che seguiremo ovviamente anche con le nostre edizioni del telegiornale Grazie Lorenzo per tutti questi aggiornamenti noi siamo in chiusura prima di salutarci andiamo a rivedere velocemente la programmazione per il resto della giornata di Udinese TV appuntamento innanzitutto con pomeriggio calcio sempre in diretta alle 15 e poi con un'altra edizione del nostro telegiornale alle 16 così come ci sarà l'edizione in diretta delle 19 e delle 22 e 30 alle 20 e 30 appuntamento anche col TG Veneto alle 21 ci saranno gli speciali del TG un'altra puntata il tema sarà questa sera a partire dalle 21 un'altra ora d'aria Draghi avanti con lo Step by Step conduce Francesco Pezzella con la partecipazione di Claudio Bracchino editorialista Italpress Claudio Siciliotti economista Giovanni Marzini direttore IS Magazine e Alessandra Moretti europarlamentare del PD dunque non perdetevi anche questo approfondamento vi auguriamo una buona giornata grazie per averci seguito fin qui vi lasciamo alle previsioni meteo per il resto della giornata a presto un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trevi Meteo nella giornata di mercoledì attese condizioni di instabilità sul Friuli Venezia Giulia per l'afflusso di correnti atlantiche non esclusi anche locali rovesci a carattere di temporale temperature massime non oltre 17-20 gradi in dettaglio tra Pordenone e Udine come vedete al primo mattino attese condizioni di instabilità con fenomeni diffusi breve tregua tra tarda mattinata e primo pomeriggio poi nuovi fenomeni torneranno ad interessare le province temperature minime non oltre 10-11 gradi massime tra i 18 e i 20 gradi con clima si piacevole ma valori al di sotto della media del periodo in dettaglio tra Gorizia e Trieste qui la situazione sarà più dinamica con fenomeni persistenti per gran parte del giorno breve pausa asciutta solamente nelle ore pomeridiane con parziali schiarite temperature massime intorno ai 17-18 gradi con questo per il momento è tutto ma come sempre per saperne di più restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo Grazie a tutti